Cerchiamo continuamente di adeguarci a un qualche modello di perfezione. Vogliamo che la nostra performance sia inattaccabile, vogliamo primeggiare, vogliamo che tutto ciò che facciamo sia perfetto. L'intenzione è sicuramente buona, ma siamo sicuri che la perfezione, o meglio la ricerca della perfezione, sia sempre la migliore strategia. Buonasera a tutti, sono Bruno Medicina, trainer, coach, performance consultant o come spesso mi si definisce qualcuno che aiuta persone e aziende a ottenere il massimo dei risultati. E proprio per questo motivo sono sempre stato ossessionato a vario titolo della ricerca della perfezione, della performance eccellente, dell'esecuzione impeccabile. Ovviamente questa è un'ottima idea. Se il perfezionismo molto spesso diventa un blocco perché è semplicemente la ricerca di qualcosa che per definizione è impossibile da raggiungere, la ricerca della performance, della prestazione eccellente, deve essere sicuramente al top di chiunque voglia raggiungere alti risultati. Fin qui non si discute. Tuttavia ci sono casi in cui conformarsi a un presunto modello di perfezione di fatto si riflette in maniera negativa su noi stessi. Vediamo se riesco a spiegarvi perché è un concetto che può essere facilmente frainteso. Mi sono sempre fatto io un vanto di tenere conferenze seminari e consulenza nella lingua del paese in cui vado. Per cui ho tenuto seminari in Francia e in francese, in Sud America li tengo in spagnolo, ovviamente negli Stati Uniti li tengo in inglese e siccome nella mia seconda patria che è la Romania ci passo molto tempo, in Romania li tengo in rumeno. Ora, ovvio che la mia padronanza di queste lingue è accettabile, nel senso che tutti mi capiscono, ma ovviamente è piena di errori, di italianismi, di accenti sbagliati, di imperfezioni grammaticali. Ora, qualche anno fa ero a Bucarest e mi hanno chiamato all'università di legge, di giurisprudenza per tenere una conferenza, ora non entriamo nei dettagli, ma siccome doveva essere nell'ambito di un convegno, una cosa molto delit, molto accademica, hanno voluto che la tenessi in inglese. Nessun problema. Ci sono state 500 persone, io tengo le mie due ore di conferenze in inglese e non faccio per vantare, ma io sono abituato che in Romania, quando tengo i miei seminari in rumeno, scateno un certo entusiasmo. Invece quella volta ho ricevuto felicitazioni di varia natura, mi sono stati fatti complimenti, ma non ho visto quell'entusiasmo che vedevo di solito e che continuo a vedere. E mi sono reso conto che quando parlo in rumeno, col mio rumeno maccheronico, sicuramente pieno di errori, divento unico, divento un italiano a Bucarest che tiene conferenze in rumeno. Nel momento in cui vado a Bucarest e parlo inglese, sono uno dei mille stranieri, mille professori, mille conferenzieri che vengono a Bucarest e tengono la loro conferenza in inglese. Quindi, mentre sono sicuramente all'altezza del compito, perdo quella che era la mia unicità ed è questa la chiave. Qualcuno si ricorda per esempio il commentatore di Vresti, di Dan Peterson, quello che parlava così per me numero uno. Ecco, immaginatevi che avesse avuto una pronuncia perfetta, ma avrebbe perso il 90% della sua riconoscibilità, della sua unicità. Noi vediamo Staglio e Oglio a dire sei sempre il solito e stupido. Se avessero detto sei sempre il solito stupido, non avrebbe ottenuto il minimo successo. Parentesi, che è interessante. Se Staglio e Oglio parlano così, è perché i primi sonori si li volevano doppiare da soli, quindi facendo una valanga di errori che sono diventati parte della loro immagine. Quando poi è stato doppiato da Alberto Sordi ha riprodotto gli stessi errori. Quindi, va benissimo ricercare l'eccellenza, ma in alcuni casi, quando si tratta di noi stessi, cercare di conformarsi a un certo modello standard che annulla la nostra unicità può rivelarsi estremamente controproducente. Allora, questo non vuole essere un invito a una cattiva performance o alla rinuncia dell'eccellenza. Significa semplicemente che se avete delle caratteristiche, invece di cercare di mascherarle, fatene un punto di forza. Io credo che nella società di oggi, dove tutto è standard, dove tutto è burocratizzato, tutto è livellato, tutto è definito, l'unicità è l'unica vera nostra arma. Quindi, perché a un certo punto fare tutti questi sforzi per conformarci quando di fatto vogliamo uscire in evidenza. Quindi, senza che questo sia un invito alla faciloneria o ad abbassare il livello della nostra performance, attenti, perché cercare a tutti i costi di conformarci con un modello standard ci fa perdere quella che oggi, secondo me, è la merce più preziosa, ovvero l'unicità. Puntate su quella, non ve ne pentirete. Buon proseguimento di serata.